Benvenuti all'angolo di Pagine d'Autore, una rubrica per entrare nel mondo dei libri. Io sono un cane. Cominciamo dalla prima stramberia di questa storia. Io sono un cane. Sì, lo so. Hai vissuto una vita intera con la convinzione che i cani non possono parlare. Figuriamoci se tu adesso riconoscerai che un cane può addirittura scrivere un libro. Ma che vuoi che ti dica? Il libro che Dario Levantino sorprende con il cane di Falcone il suo ultimo libro pubblicato da Fazzi Editore con la prefazione di Maria Falcone. Dario Levantino è nato a Palermo, è laureato in lettere e filosofia e insegna italiano in un liceo a Monza. Con il suo libro d'esordio di niente e di nessuno ha vinto numerosissimi premi. Mi piace citare il premio Leggo quindi e sono che coinvolge tantissimi studenti della provincia di Foggia. Poi ha pubblicato Cuore Bomba e ancora La violenza del mio amore. Sempre con Fazzi Editore e incentrati sulla figura di Rosario, un personaggio molto amato dai lettori. Ma di queste storie ve ne parlerò un'altra volta. E invece con il cane di Falcone affronta la tematica della legalità, ma non solo della legalità, anche dell'amicizia. L'amicizia è una storia speciale, sincera, quella che si crea tra un uomo e il suo cane, tra Giovanni Falcone e Uccio, che è un trovatello dei poteri speciali. Uccio e Giovanni Falcone si capiscono alla perfezione attraverso i gesti, attraverso gli sguardi. C'è tanta complicità da invitare il lettore ad entrare delicatamente in questa storia. Poi Dario Levantino sa usare molto bene e mischiare molto bene la fantasia con la realtà, tanto che quei dialoghi così immaginari diventano reali. E anche la voce di Uccio che sembra urlare parole nel suo silenzio. A un certo punto, infatti, Uccio dice io capisco la lingua degli uomini, ma gli uomini non capiscono la mia. Dario Levantino tratta in modo molto attuale questa storia, che è una storia anche di accoglienza, di sacrificio, il sacrificio di Giovanni Falcone fino alla maledetta strage di Capaci, dove trovò la morte con la moglie Francesca Morvillo e con gli agenti di scorta. In questa storia fantastica, si può dire fantastica, si riflette sulla realtà senza mai essere superficiali. E poi c'è un ingrediente importante che contraddistingue la scrittura di Dario Levantino, che è l'ingrediente ironico. Dario Levantino attraverso questo ingrediente riesce sempre a stupire e ad essere sincero. Scrive Maria Falcone nella prefazione, l'autore dà lettore le chiavi per capire una realtà complessa, senza mai essere di da scarico, e ci insegna che affrontare i propri mostri e sconfiggerli è molto più facile di ciò che temiamo. Non mi resta che augurarvi buona lettura e se volete seguitemi sul mio blog www.paginedautore.it oppure scrivetemi alla mia mail o ancora mi trovate sui social Facebook e Instagram. Buona lettura!